Ma Dio io, una signora che la vedevo passare, la vedevo coi cagnolini quando li aveva, che poi dopo il comune li ha portati via perché erano un po' abbandonati da soli, sempre fuori, però non è una signora che si fermava a parlare con qualcuno, la vedevo che arrivava, che poi se ne andava, ma tutto qui. Il marito lo conosceva? Io non so neanche se avesse un marito, vedevo uno quest'estate che veniva alle 8, alle 9, che magari venivano tutte e due. Ha sempre avuto le finestre aperte così giorno e notte, ma come quel signore lì dice non la vediamo mai. È stato un anno che è sempre aperto giorno e notte anche quando c'era quest'estate, perché a volte magari si mette fuori l'estate fino al giardino e la vedevo arrivare al mattino quando magari io mi alzavo, la macchina non c'era più, non era una signora, non sapevo neanche. Osservata forse. Sì, per quello che io non ho neanche pensato che non ci fosse perché spariva, veniva e poi come vi dico non ho mai avuto occasione più di dire buongiorno, buonasera. Non la conoscevo bene, solo di vista, perché era mia vicina di casa e quindi venivo male, la intravedevo entrare e uscire da casa, ma non l'ho frequentata mai. Ma andava e veniva, dicevano che stava spesso via da casa. Spesso via, sì, non la si trovava mai, perché anche con l'amministratore del condominio l'abbiamo cercata più volte, perché aveva i cani ed erano incustoditi nel giardino e quindi erano un po' abbandonati a se stessi e quindi l'abbiamo più volte cercata tramite l'amministratore, ma non l'abbiamo mai trovata. Ecco, la notizia della morte la lascia un po' scossi. Un po' sì, sì, per dire la verità era un po' un personaggio un po' strano, ecco. Una volta abbiamo avuto un confronto sui cani, perché appunto vedendoli così abbandonati ci dispiaceva e c'era il suo compagno che era quanto adirato, insomma, quasi voleva aggredirmi, perché io avevo avuto questo confronto, insomma, non molto... Insomma, gli facevo presente che non era il caso di tenere i cani in questo modo e il compagno sembrava abbastanza alterato. Gli aveva sentiti magari discutere a volte, litigare? No, no, non si sentiva mai, non si vedeva mai, ecco. Le rare volte che le abbiamo viste è perché entrava in casa. Lei entrava, faceva le sue cose e poi usciva senza avere nessun contatto con gli altri condomini.